Davanti a te i più grandi nomi mondiali della terapia seduta singola. Potrai parlarci, scambiare contatti, imparare direttamente da loro. È per questo che noi di ICNOS ti invitiamo al primo simposio in Europa di terapia seduta singola. Crediamo nella TSS, ma ancora di più nella condivisione. Ed è per questo che abbiamo organizzato tre giorni densi di speech. Non solo capirai che cosa è la terapia seduta singola e qual è l'enorme corpus di letteratura che ha prodotto negli ultimi 30 anni. Ma conoscerai anche pratiche tecniche che potrai applicare da giorno dopo, da subito, in studio. Abbiamo anche organizzato pranzi e cene a buffet per farti conoscere i colleghi che già praticano la terapia seduta singola o che sono lì per impararla. Ma anche per farti stringere la mano a Michael Hoyt, Moshe Talman, Robert Rosenbaum, Giorgio Nardone e agli altri attori protagonisti di questo metodo. Ognuno di loro porterà la propria esperienza e apprenderà i pratiche e tecniche che si utilizzano con la terapia individuale, di coppia, familiare, con bambini e adolescenti e con diverse problematiche come i disturbi d'ansia o i disturbi dell'umore. Se ti va di conoscere i protagonisti della TSS, imparare dalla loro esperienza, apprendere subito delle tecniche e pratiche, puoi cliccare sul link qua sotto e scoprire come partecipare. Ciao!